L'aumento delle rinnovabili, l'incremento del numero di tanti impianti di generazione, così come anche le nuove attività dei prosumer, sono tutti elementi che andranno a stressare molto le reti. Pertanto per avere una rete bilanciata, ottimizzata, in grado anche di aumentare l'hosting capacity, l'unico modo è quello di avere una rete gestita digitalmente, da questo punto di vista la tecnologia esiste, Schneider Electric ha sviluppato un sistema che si chiama ADMS, che sta per Advanced Distribution Management System, che oltre a gestire la rete di media tensione e bassa tensione, può simulare anche tutta una serie di eventi offline, di intervenire sulla manutenzione, ordinare, preventiva, di considerare anche le condizioni climatiche, eccetera. Quindi lato distributore, la ADMS più un modulo DERMS, proprio dedicato per la flessibilità delle energie intermittenti, cioè rinnovabili, è il massimo della tecnologia che oggi si possa avere, abbiamo 100 referenze nel mondo e 30 soprattutto nel Nord America della combinata ADMS più DERMS, quindi si tratta semplicemente di replicare il modello anche in altri paesi, come per esempio l'Italia. Come si accennava durante la tavola rotonda, l'unico approccio possibile è quello veramente di una partnership tra il tecnologo, quindi in questo caso Schneider e l'investitore, perché questi tipi di progetti vengono sviluppati veramente assieme, sono altamente customizzati, quindi da parte nostra ci deve essere una prospettiva di medio periodo, come di fatto abbiamo, quindi essere pronti a investire tempo e risorse per poter appunto dettagliare, customizzare una piattaforma già esistente, ma su degli analytics, dei report e comunque un taglio che soltanto il cliente ci può indicare.